Amici di Juventus News24, giornata storica per due leggende, due bandiere della Juventus, compie 80 anni Dino Zoff e rinnova con il Parma Gigi Buffon, un grande abbraccio entrambi, un grande in bocca al lupo per due giocatori che hanno fatto la storia della Juventus. Una Juventus che sta continuando a fare la storia e negli ultimi giorni si è tornati a parlare di Scudetto, in realtà non lo si è mai fatto in maniera concreta dall'inizio di questa stagione, un inizio stagione in cui la Juventus ha faticato, non poco, mentre da dopo Lempoli si inizia a ragionare sulla possibilità di un tricolore, di una classifica che si accorcia, tabelle, quota Scudetto, il fatto che la Juventus sia rientrata in corsa con una rimonta incredibile, ma ci sono o non ci sono possibilità di riuscire ad arrivare ai primi? Proviamo a analizzare un po' tutta la situazione cercando di proiettarci e ragionare anche sugli scontri diretti, sul calendario della Juventus e delle altre per capire se veramente la Juventus ha qualche possibilità di ragionare su uno Scudetto che al momento, ribadiamolo, rimane una suggestione. Intanto la quota Scudetto, Allegri continua a confermarla sugli 84-85 punti, ma è chiaro che dipende tutto da cosa fanno le squadre che sono davanti, il problema della Juve è che non ce n'è una, non ce n'è due, ma ce n'è tre, e stanno viaggiando abbastanza veloci, tra l'altro l'Inter ancora una partita da recuperare, Milan e Napoli sono appaiate, è chiaro che hanno avuto diversi scivoloni queste squadre nelle ultime partite e questo lascia ben sperare per la Juventus, però ce ne sono tre, difficile che per dirla come Allegri svengano tutte e tre, e quindi dovrebbe verificarsi proprio questo per cercare di abbassare la quota Scudetto abbastanza da permettere alla Juve di arrivarci, perché la Juve oggettivamente non può arrivare matematicamente a più di 83 punti, se le vince tutte ci sono ancora 11 partite, 33 punti in paglio, se le vince tutte, e comunque non è facile al netto di Vlaovic, al netto della fiducia ritrovata, se le vince tutte la Juventus può arrivare al massimo a 83, quindi per cercare di cullare questo sogno Scudetto è chiaro che la quota Scudetto dovrebbe abbassarsi, dagli 80 agli 84-85 previsti da Allegri, chiaramente agli 83 o addirittura al di sotto, perché poi vincerne 11 non è assolutamente scontato. La Juventus deve provare a basarsi sugli scivoloni di quelle davanti, da questo punto di vista non hanno dato delle garanzie granitiche, perché scivoloni ne abbiamo visti da parte del Napoli, anche con squadre piccole, proprio come il Milan, l'Inter invece ha faticato più che altro negli scontri diretti, e a proposito di scontri diretti, credo che la data cerchiata sul calendario del Allegri in rosso sia quella del 3 aprile. C'è lo scontro diretto contro l'Inter allo stadio, i scontri diretti in questi casi valgono doppio, è una frase fatta, ma effettivamente è così, ecco in quel caso vincendo quella partita credo che le chance della Juventus potrebbero aumentare. Rimangono molto basse, perché chiaramente ci vuole un incastro di combinazioni per nulla semplice, c'è una Juve che deve vincerle tutte, ci sono le altre che devono rallentare, quindi non è per nulla semplice, non dipende soltanto dalla Juventus, ecco dipende soprattutto anche dalle altre, però c'è una statistica riportata da Tutto Sport che alla fine fa riflettere, perché se non si considerano le prime quattro partite della stagione, in questo momento la Juventus sarebbe prima in classifica, poi via via le altre con il Milan, eccetera. Cosa vuol dire? Perché di fatto il terreno che ha perso in questo momento la Juventus rispetto alle squadre che la precedono, è stato perso proprio nelle prime quattro giornate sciagurate in cui Allegri ha faticato moltissimo a trovare i nuovi automatismi, una sintonia, i meccanismi di un gruppo che ancora probabilmente non conosceva nel dettaglio, ha avuto pochissimo tempo nel precampionato e quindi ha dovuto sperimentare anche a campionato in corso. Le prime partite sono state difficili, la Juventus ha perso punti pesanti anche contro squadre non di altissimo livello, ecco, questo ritardo se lo sta portando adesso, perché banalmente con un paio di vittorie in più la Juventus sarebbe tranquillamente a lottare con le squadre che sono al vertice. I punti che la separano dal Milan in questo momento sono sette e quindi chiaramente sarebbe lì. Perso terreno, persi punti importanti a inizio campionato, di fatto recuperato però, soprattutto nelle ultime settimane, un'inizione di fiducia decisiva è stato Vlaovic. È innegabile, lo si sapeva, però probabilmente non ce lo si aspettava già così decisivo nelle manovre, nei meccanismi e anche nei tabellini della Juventus. Più che dare una mano alla Juventus, e sicuramente l'ho fatto Vlaovic a suon di gol con quattro centri in sei partite, più uno praticamente procurato, è cambiata anche la percezione della Juventus nel campionato italiano. Perché? Perché Vlaovic ha dimostrato di essere uno dei pochi bomber, delle grandi, e lì andiamo a considerare anche l'Inter, il Milan, la Roma, la Lazio e il Napoli, a cambiare, a spostare gli equilibri. Lo ha fatto, ha già 20 gol da inizio stagione, meglio di immobile, lo ha fatto trascinandosi la sua dote di gol dalla Fiorentina alla Juventus. Non era scontato, non era banale, perché le pressioni aumentano, la maglia della Juventus pesa decisamente di più di quella viola, e lui di fatto la pressione non l'ha sentita, continuando a fare esattamente quello che faceva Firenze a Torino, segnando con una regolarità impressionante. Questo è il valore aggiunto di una Juventus che ha trovato il pezzo che mancava del puzzle, il centroavanti, che non ha mai avuto, l'ho detto Allegri, ci siamo arrangiati, e adesso è arrivato uno che la differenza te la fa. Ma le altre squadre, Inter, Minan, Napoli, eccetera, probabilmente quando hanno visto Vlaovic sbarcare a Torino, un pensierino, un po' di timore lo hanno avuto, perché chiaramente non è un giocatore che ti completa la rosa, ma è un giocatore che ti fa la differenza. E questo ha cambiato sicuramente la consapevolezza della Juve, ma anche la percezione della Juve stessa nelle avversarie, che hanno iniziato a temerla sicuramente di più di prima. Tra l'altro la Juve sta migliorando anche il modo in cui mette Vlaovic nelle condizioni di segnare, nell'ultima partita un segnale c'è stato. Sono stati 24 i palloni giocati da Vlaovic, pochi, contro il Villareal, 38 nell'ultima partita contro l'Empoli, e non a caso è arrivata una doppietta. Quindi di fatto la legge non scritta, ma piuttosto scontata, più dai palloni a Vlaovic, più è probabile che segni. Questo sta facendo il serbo, ce l'aspettiamo la prova del 9 contro la sua Fiorentina, mercoledì in Coppa Italia, vedremo se anche lì riuscirà a resistere, ad essere impermeabile alle pressioni, un po' come ha dimostrato nelle ultime partite, Champions compresa. C'è un fattore da non sottovalutare in questa corsa, rimonta, scudetto, chiamiamola così, per la Juventus, che è il fattore infermeria. Sta pesando, e come nei meccanismi di una Juventus, Allegri sta gestendo una situazione di emergenza totale, assoluta, ci sono 9 giocatori fuori, l'ultimo, Zaccaria, che tra l'altro questa mattina si è sottoposto ad esami presso il G-Medical, di fatto una squadra fuori, di fatto pochi segnali anche di recuperi, probabilmente il più vicino è Di Bala, ma insomma sono da attenzionare anche le condizioni di Bonucci, ed esce una situazione per nulla facile per Allegri, che deve provare a far dare a tutti il 110% per questa rimonta incredibile, ma pur non avendo una buona parte della rosa disposizione. Peseranno e come? Le assenze pesano tantissimo, quella di Chiesa, pesa tantissimo anche quella di McKennie, che sono giocatori importanti per questa Juventus, Allegri cercherà di sopperire a queste assenze, con gli altri giocatori della rosa, chiaro non è la stessa cosa, ma sulle ali della fiducia, probabilmente è qualcosa che si riesce a fare. L'ultimo capitolo, in chiave prospettiva, in chiave futura, è il mercato, perché la Juve continua a ragionare in prospettiva sul futuro, Vlaovic ottimo, ma si ragiona già per giugno, allora il primo nome, il nome in cima della lista, è quello per un centrocampista, è quello di Ziannolo, che non ha mai nascosto la sua fede giovanile juventina, si è fatto pizzicare con diversi like, a giocatori, a foto di giocatori juventine, insomma, in scadenza nel 2024, insomma, non ha mai nascosto neanche la voglia di provare a mettersi in discussione in un'altra realtà. Questa realtà potrebbe essere la Juve pronta ad accoglierlo a braccia aperte, chiaramente c'è una trattativa da imbastire con la Roma, ma sarebbe un giocatore che andrebbe a completare il reparto in questo momento più in difficoltà, perché se l'attacco è stato puntellato alla grande con Vlaovic e in difesa, se rimane De Ligt, è chiaramente uno dei reparti più concreti e più importanti, con Bonucci e Chiellini rimane da puntellare il centrocampo. e farlo con un giocatore come Zagnolo, dal peso specifico importante e già dalla grande esperienza, nonostante la giovane età, potrebbe essere veramente quel valore aggiunto che potrebbe permettere alla Juventus di andarsi a giocare il campionato dalla prima giornata già nella prossima stagione. Se avete dubbi, se avete considerazioni, se ci credete o non ci credete, insomma, sullo scudetto scriveteci pure nei commenti, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube e mettete like. Ciao! Ciao!